La Festa del Cinema di Roma Io sono ancora una ragazzina Se ognuno di noi da sola si è convinta che un po' fa niente Che cazzo ci siamo venuti a fare qua? I vostri personaggi del film sono quelli con un carattere più forte E in qualche modo anche un po' più aggressivi degli altri Come vi sapete qua di interpretare questi ruoli che comunque sono diversi rispetto a quelli che in genere interpretate? E se è stato liberatorio in un certo senso? Certo Sicuro, è liberatorio perché in questo film secondo me non si parla solamente dei diritti sul lavoro Per quanto riguarda la donna Dei voci anche all'uomo, all'essere umano in un certo senso Ma Greta è impegnativa devo dire Lei non ha una famiglia da mantenere, non ha dei figli E scarica tutta la sua rabbia facendo box, giocando a basket Proprio per evitare di andare in giro a far danni Però è una rabbia onesta Cioè è una rabbia che lei sta, che deve concentrare contro qualcosa di più grande Per far sentire il proprio valore Però in quella situazione si accorge invece che deve far ascoltare il valore di tutte E allora quella rabbia diventa positiva Diventa un grido alle altre per dire Io magari ho meno da perdere Allora vi dico che non si può accettare questo Cioè che non possiamo decidere di perdere tutto quello che ci riguarda La dignità come primo valore assoluto Perché la dignità è proprio il primo passo per essere utilizzati come Non più come esseri umani E quindi in questo forse le dai più ragione Ce le vuoi più bene Se fosse cazzata e basta sarebbe solo un personaggio che disturba Ecco Nel suo essere un po' provocatoria C'è dentro tutta la voglia di aiutare anche chi Come magari il personaggio Maria Non può permettersi di decidere solo per sé Ma deve pensare che ha una famiglia a casa E che certe volte la tua dignità devi regalarla a qualcuno Che ingiustamente te la chiede Perché sennò non mangi I personaggi sono ispirati da un po' a donne Vero, reali, la vita reale Che cosa vi ha colpito e soprattutto nei loro panci Al senso di calare al consumo I personaggi come li ha assistito? Ma io ho un fuoco sacro di mio Che proprio non riesco a spegnere Ho chiamato vari pompieri ma non ce la faccio È proprio una roba che mi riguarda tanto Nel mio faccio così Infatti spesso poi risulto non proprio leggera Però a 39 anni me ne prego abbastanza Conosco le regole, conosco l'educazione So fin dove devo arrivare Dove assolutamente non devo oltrepassare la linea Per diventare sgradevole nei confronti di un'altra persona Però so anche che in questo momento storico Che viviamo Dobbiamo metterci quella passione in più Per farci ascoltare Quindi sono molto d'accordo con Greta Sono molto d'accordo con il fatto che Chi può permetterselo un po' di più Perché magari può pensare più soltanto a sé Deve mettere a disposizione Tutto quello che ha in corpo anche per gli altri Io penso di essere una donna Con una vitellione timida Forse sembrava che è strano Mi affetto tantissimo Anche con pianti Perché no Perché poi D'accordo Personaggio, attrice Però tu tocchi con mano A un certo punto Tocchi e quindi La testa, il cuore Insomma si fa sentire L'ASCOM L'elenatore È un lavoro che è importante Ha allenato Se la maschiera e la femminile Adesso non ha mai allenato una femminile Per il proprio spogliatoio È difficilissimo da testire Quindi Voi 11 donne sul set Com'è stata? E poi se non ha fatto il valore Com'è stata? Come esperienza? Noi l'allenatore C'avevamo Michele Pracido C'avevamo Michele Che è una roba Che è in grado di gestire pure Ci siamo divertiti da matti Degli alieni appena arrivati da Marte Però Mettrli in riga Ognuno aveva una sua testa Una sua intelligenza Una sua educazione Per lavorare insieme Unite E soprattutto Insomma per la riuscita del film Per fare un buon lavoro Ma non solo per il film Ma per noi tutti